Proibizione verdiana di fare nello spartito Gerusalemme qualunque intrusione o mutilazione Resta proibito di fare nello spartito qualunque intrusione o mutilazione, ad eccezione dei ballabili che si potranno levare, sotto la multa di mille franchi che io esigerò da te ogni qual volta questo spartito venga fatto nei teatri d'altro cartello. Nei teatri di secondo ordine la clausola esisterà parimenti e tu sarai obbligato a studiare tutti i mezzi possibili onde esigere la multa in caso di contravvenzione, però se tu non potrai esigerla non sarai obbligato a pagarmela. Addio, addio. Da una lettera di Verdi a Giovanni Ricordi, Parigi, 15 ottobre 1847, in merito alla sua opera Gerusalemme.